Sabato incontriamo una squadra che ha un po' che non gioca in campionato per problemi di covid, quindi sarà una partita molto difficile, non sappiamo in che situazione è. Noi cerchiamo punti di salvezza in casa, quindi cerchiamo di fare una partita molto grintosa per cercare di portare via l'intera posta in paglio, quindi vi aspetto sabato in palestra per cercare di darci una mano ad arrivare ad un ottimo risultato. Grazie a tutti.